Cerchio K. L'illusione dell'ingiustizia Caio Mario Vittorino Fratelli, sorelle, sovente vi odo pregare, rivolgervi a Dio per aiutare voi stessi o altri fratelli. Noi che viviamo coscientemente il piano acasico e che percepiamo nello stesso istante tutto ciò che voi nella vostra porzione di piano fisico vivete in una illusoria successione ascoltiamo il vostro dolore, il vostro bisogno di amore, le vostre domande e dunque anche le vostre preghiere. O creature nostre, come siete confuse nel senso mistico, come siete smarrite quando pensate all'altissimo Dio che pure è la realtà che ci unisce. Non abbiate vergogna o timore di Lui, Egli non ne ha per voi. Non temete, fratelli, un giorno nessuno vi giudicherà se non le vostre intenzioni, solo ad esse è stato dato il potere di farlo. Non offendete il Padre vostro celeste con la convinzione che Egli sia così superficiale da far sì che un suo figlio non comprenda se stesso. La realtà che vi attende è sublime, o figli nostri. Non fatevi turbare dall'illusione che esista l'ingiustizia. Noi vi invitiamo a comprendere, perché siamo la guida della vostra umanità. Noi non siamo lontani da voi. Viviamo, lo ripeto, ciascun attimo della vostra vita. Le vostre circostanze sono anche le nostre. Quando voi soffrite, noi pure soffriamo, ma a voi questa idea sembra lontana, abituati come siete a considerarvi separati, a considerare l'altro come un momento della vostra vita. Pregate dunque, e tutto l'amore che da sempre ad ogni uomo cerchiamo di effondere fluirà liberamente in lui attraverso voi. Guimenti Grazie 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 Grazie.